E' andata a fuoco la scuola di Cajacobey, costruita dall'associazione Solidarietà in Buone Mani in memoria di Fabrizio Meoni, subito dopo la sua morte. Fu padre Buresti a inviare i soldi ai padri Saveriani. Questa scuola è in un villaggio molto lontano dalla missione, difficile ad arrivarci. Chi è avvenuto ne sa qualcosa, spiega Don Giuliano Faralli, attuale anima di Solidarietà in Buone Mani. Nel primo viaggio che feci, racconta Don Giuliano con Michela e Alessandro, ci fecero una grande accoglienza. E non avendo neanche l'acqua, facemmo subito un pozzo. Un vero peccato. Se ingrandite la foto, dice Don Giuliano, si può intravedere la scritta del dono fatto. La scuola, come detto, era la prima tra quelle costruite ed era dedicata a Fabrizio Meoni. L'annuncio è stato dato dal Vescovo, che per anni si è impegnato in Africa, padre Natale, recentemente ospite a Castiglion Fiorentino ed amplificato dal sindaco Agnelli sulla sua pagina Facebook. Un peccato, come diceva Don Giuliano, rammaricata l'associazione Solidarietà in Buone Mani, che non si ferma e grazie anche all'aiuto di Leonardo Pieraccioni prosegue con la costruzione di scuole e pozzi per i giovani che vivono in Africa, ma con opere di solidarietà anche in Peru.